Il jazz. Le origini del jazz. Il jazz è un tipo di musica nato tra il 1800 e il 1900 in America. È stato creato da persone africane che erano state portate in America dagli europei con delle navi mercantili per lavorare come schiavi. Il jazz. Quindi, è nato da persone che hanno usato la musica per esprimere la loro sofferenza e la loro speranza per un futuro migliore. E non erano musicisti. I work song. I work song sono canzoni che i lavoratori cantavano mentre facevano lavori durissimi. Come raccogliere cotone o costruire ferrovie. Questi canti li aiutavano a trovare forza e ritmo nel loro lavoro. I gospel song. Il gospel è un tipo di musica che parla di Dio. Anche se gli africani non erano cristiani. I sacerdoti bianchi permettevano loro di cantare nelle chiese. Questi canti. Basati sui testi della Bibbia. Parlavano di speranza. Gli spiritual. Gli spiritual sono canti che gli schiavi. Improvvisavano la sera. Dopo il lavoro. Questi canti esprimevano il desiderio comune di tornare a casa e di sfuggire alla schiavitù. Erano molto ripetitivi per aiutarli a ricordare la musica. Il blues. Il blues è un tipo di musica triste. Che parla delle difficoltà delle singole persone in quelle terribili condizioni. Veniva improvvisato su una base che si ripeteva sempre allo stesso modo. Il regtime. Il regtime è una forma di musica strumentale molto vivace. Suonata spesso al pianoforte. Ha un ritmo molto particolare. Che ricorda il suono rauco delle voci che cantavano i blues e gli spiritual. Un importante pianista di regtime fu Scott Joplin. Il primo afroamericano che imparò a scrivere musica. Le prime jazz band. Dopo la fine della schiavitù. Gli afroamericani continuarono a fare musica formando delle band. Queste band suonavano per strada e nei locali. Portando il jazz a diventare sempre più famoso. Lo stile Chicago. Negli anni 20 del 900. Molti musicisti si trasferirono a Chicago. Portando con sé il jazz. Qui il jazz divenne più allegro e adatto per ballare. Una delle star di questo stile era Louis Armstrong. Un famoso cantante e trombettista. Le big band. Con il successo del jazz nacquero le big band. Gruppi più numerosi di musicisti che suonavano insieme. Un famoso pianista di questo periodo era Duke Ellington. Che scriveva musica oltre ad improvvisare. Il bebop. Negli anni 40 del 900 il jazz stava cambiando. Alcuni musicisti non erano contenti perché la musica veniva utilizzata solo per divertimento. Così, nacque un nuovo stile chiamato bebop. Che riportò il jazz alle sue radici. Con piccoli gruppi di musicisti che improvvisavano insieme. Con piccoli gruppi. e il assassination del jazz. Con Και. Grazie a tutti